la nostra famiglia è composta da mamma papà e due figli maschi non sono stati battezzati da piccoli per scelta perché mio marito è di famiglia musulmana io di famiglia cattolica ma non praticante e ci andava bene così e ad un certo punto Dario ricordo benissimo quella scena eravamo seduti a tavola di brutto dice io voglio essere batteggiato sì io parlo per me poi mi si è risvegliata la fede che probabilmente si era soltanto addormentata è riuscito proprio a trasmettere tutta la sua gioia nel ricevere il battesimo e lui ricordo che non riusciva a togliere quel sorriso e abbracciava salutava tutti aveva questa gioia dentro che sprizzava da tutti i pori e da lì anche il fratello si è accorto che nei ragazzi del seminario c'è tanta gioia nel cuore di questi ragazzi ha trovato degli amici ha trovato dei sentimenti che forse lui non aveva provato per altri per il momento lì in pratica essere in Libano insieme poi l'ho portato anche nei posti come avete visto nelle foto dei cattolici in pratica perché in Libano ci sono tutte le religioni ero contento io perché loro erano contenti in pratica a scoprire posti che piacciono a loro potrebbero trasmettere a loro qualcosa di più insomma quindi è bello stare con loro in qualsiasi posto questo non ci sono momenti diciamo un posto speciale ma in qualsiasi posto stare insieme con la famiglia forse il momento migliore per noi